Ciao, allora iniziamo questa registrazione oggi per il nostro lavoro sull'esame di Stato e soprattutto per dare delle indicazioni di massima su come affrontare la parte relativa alla prima prova scritta, la sostituzione della prima prova scritta, cioè l'analisi dei testi letterari, di alcuni dei testi letterari che sono stati letti in classe durante l'anno. Per prima cosa, oggi abbiamo visto in videoconferenza come saranno strutturati questi testi che voi vi troverete davanti, avete visto che avrete un foglio bianco, in questo foglio bianco ci sarà il testo o il quadro o quello che è per quanto riguarda i materiali del colloquio, per quanto riguarda l'italiano avrete un testo con il nome dello scrittore che l'ha composto, l'opera da cui è tratto il testo se è una novella di una raccolta di novelle oppure l'opera in generale, se si tratta di un romanzo ad esempio, e anche l'anno di composizione. E' quindi fondamentale che voi utilizziate questi dati sin da subito per introdurre l'argomento. Ricordo che avete pochissimo tempo, si tratta di una sostituzione diciamo di una prima prova, quindi è interessante riuscire sia a cogliere alcuni aspetti contenutistici del testo, sia alcuni aspetti formali. Niente di difficile. Vi faccio un esempio immediato, oggi iniziamo con Tony Kröger, io per quanto riguarda Tony Kröger ho scelto, cioè il libro che voi avete letto, questo, ok? Che tutti voi qua lo vedete a specchio, vabbè non importa, che tutti voi avete letto quest'anno, la storia di formazione del giovane adolescente che poi rivede se stesso attraverso il racconto quando è più grande. Io ho scelto il testo che avevamo già visto come spunto per la recensione, cioè la parte finale che adesso vi faccio vedere ce l'ho qua, che è la lettera a Elisaveta che Tonio Kröger, adulto, durante il suo viaggio al nord manda appunto a Elisaveta per parlare, per fare una sintesi di ciò che gli era successo nella sua vita per riflettere sulla condizione del letterato. Ricordo che qualcuno di voi ha un'edizione con una traduzione diversa, quindi vi consiglio di mettervi nella borsa, se lo avete, l'edizione del Tonio Kröger che voi avete letto perché vi ritrovate meglio. Per me non ci sono problemi se usate la vostra edizione. Allora, vediamo un po'. Prima di tutto, quale parte del testo voi troverete? Troverete le prime tre righe di questo capitolo 9 che vi fanno capire appunto a che punto del testo ci troviamo. Mentre si trovava al nord, Tonio Kröger scrisse alla sua amica Elisaveta Ivanovna come le aveva promesso, poi ci saranno i puntini e il testo poi continuerà più avanti, e cioè nella seconda pagina quando nel punto in cui Tonio Kröger rivendica la sua appartenenza a un mondo, con orgoglio la sua appartenenza a un mondo, perché nella prima parte del testo aveva parlato della sua famiglia, aveva parlato del fatto che i suoi amici lo definivano un borghese. Quindi troverete queste prime tre righe e poi queste altre, questa paginetta. Vediamo come si può parlare di questo lavoro. In primo luogo, io farei una piccola introduzione, voi non sapete niente di Thomas Mann, ma è evidente che noi abbiamo letto questo romanzo tedesco perché fa parte della storia del romanzo europeo. Ok, io direi queste cose qui. Tonio Kröger è un romanzo novecentesco, di primi anni del Novecento perché è stato scritto nel 1903, quindi appartiene per momento di composizione alla grande stagione del romanzo decadente europeo, ma ha delle caratteristiche sicuramente particolari. È un romanzo breve, di pochissime pagine, qua sono un centinaio di pagine, ma c'è la traduzione a fronte, che presenta però dei caratteri di complessità e di profondità che lo rendono uno dei capolavori riconosciuti della letteratura mondiale. Le tematiche affrontate da questo romanzo sono molto interessanti. La storia è quella di un romanzo di formazione, si racconta di un giovane adolescente che cerca di comprendere chi è, fa un viaggio simbolico nel mondo, si tratta di un romanzo evidentemente non è un romanzo realista, è un romanzo che ha una forte componente simbolista e viaggia per il mondo, il suo viaggio ovviamente non è solo un viaggio terreno, ma è anche un viaggio dell'anima, è un viaggio alla ricerca di se stesso. È un romanzo ampiamente autobiografico perché racconta la vita di un giovane artista che viene però da una famiglia borghese e che cerca, che si sente evidentemente un diverso rispetto alla sua origine e che nell'incrociare il mondo continua a sentirsi in parte escluso da un mondo bohemian, in parte escluso dal mondo originario del borghese. Non è però un romanzo torbido, non è un romanzo dalle atmosfere decadenti, è un romanzo malinconico, ma è anche un romanzo che trova una composizione ai problemi, questa è una grande novità. Thomas Mann era conosciuto per essere un uomo freddo, un uomo poco incline all'emotività e in effetti questo romanzo è un romanzo estremamente razionale se ci pensate. Infatti, che cosa dice? Nella storia Tonio che cosa ha fatto? Ha conosciuto persone che gli sono sembrate particolarmente interessanti nella sua vita perché erano molto diverse da lui, queste persone lo hanno a loro volta riconosciuto come diverso e non accettato e in questo viaggio poi lui è arrivato a una conclusione. È evidente che la chiusura del romanzo in cui lui si rivolge a Lisaveta è la discussione del narratore con il proprio alter ego. Lisaveta non è altro che la coscienza di Tonio Kruger, Thomas Mann, perché Thomas Mann è evidentemente l'autore che rappresenta se stesso attraverso Tonio. Vi ricordo anche che questo romanzo in origine, che questo breve romanzo era stato chiamato Literature, cioè un romanzo sul perché della letteratura, su chi è l'intellettuale, su che cosa deve fare l'intellettuale. Vediamo che cosa dice. Se noi leggiamo questo testo, ok, alla fine del suo viaggio Tonio dice queste parole attraverso Tonio adulto. Che cosa ne è uscito fuori? Eccolo qui, un borghese che si è smarrito per i sentieri dell'arte, un bohemian con la nostalgia della buona educazione, un artista dalla coscienza sporca, perché è proprio la mia coscienza di borghese quella che mi lascia scorgere nella vocazione artistica, nello straordinario e nel genio qualcosa di profondamente ambiguo, malfamato e dubbioso, che mi porta ad amare con singolare dolcezza le cose semplici e sincere per quelle normali, non geniali, decorose. C'è un rovesciamento di tutto l'ottocento in queste parole. Egli dice che Tonio giovane è andato a inseguire il sogno dell'artista bohemian, dell'artista genius regolatezza che si realizza in questa forma di autoesclusione dalla società che è venata da un pizzico di follia. Perché egli dice che sostanzialmente lui non vuole e non può rinunciare alle sue origini borghesi fatte di buona educazione. Ed è per questo che alla fine la novità di questo sta nel fatto che Tonio Kroger non è un inetto, non è un eroe fallito come gli eroi di D'Annunzio, come Zeno Cosini. Perché questo Tonio Kroger rivendica la sua libertà di amare la normalità, di ritenersi. Questo non vuol dire che l'artista non si ritenga diverso, perché è evidente che la risposta che Thomas Mann attraverso Tonio dà alla propria coscienza, cioè Alisaveta, è che l'artista è comunque un diverso. Infatti con parole semplicissime, con un lessico, piano, disincantato, non passionale e romantico, l'autore dice «Io sto tra due mondi e non mi sento di appartenere pienamente a nessuno dei due ed è per questo che mi muovo un poco con difficoltà. Voi artisti mi definiti un borghese. I borghesi sono tentati di arrestarmi. Quali delle due cose mi ferisca di più? Davvero non saprei dire. I borghesi sono stupidi, ma voi artisti, adoratori della bellezza, voi che mi tacciate di essere flemmatico o privo di ambizioni, dovreste almeno riflettere al fatto che si può ammettere una vocazione artistica così intensa e sentita, provocazione e destino, che nessuna ambizione le può sembrare più dolce e delicata come quella che si cela dietro le delizie di una sana mediocrità». Che cosa significano queste parole? Significa che questo romanzo è pieno di un fortissimo individualismo perché Thomas Mann non identifica se stesso come un intellettuale tra tanti, ma identifica se stesso come Tony Kroger con un nome e un cognome e questo intellettuale, questo artista, sa di essere diverso. Perché sa di essere diverso? Questo si capisce da tante pagine del romanzo. Sa di essere diverso perché ha una sensibilità che gli consente di percepire attraverso se stesso i dolori degli altri. È per questo che l'artista è malinconico, perché percepisce le sofferenze altrui. Ma allo stesso tempo l'artista con semplicità, chiarezza, direi purezza, rispetto a quello che abbiamo visto nel romanticismo, a quello che abbiamo visto nelle esagerazioni del romanzo decadente, dichiara che la mediocrità può essere un valore aggiunto nel momento in cui l'artista si fa interprete anche di quella mediocrità. L'artista non deve parlare per forza di fatti straordinari. L'artista ha una creatività che gli viene dal suo essere diverso e è in grado di percepire la delizia della mediocrità. E questa è una voce nuova nel Novecento. Non è un caso che questa voce nuova venga dalla Germania. La Germania è stato il paese, è il paese che in questo momento viene da 40 anni di crescita continua, dall'età di Bismarck, di crescita economica, scientifica, culturale. Voi pensate alla grande stagione della filosofia tedesca, alla grande stagione della letteratura tedesca, i tedeschi in questo momento in Europa sono la nazione vincente e lo sono per davvero. E non a caso da questa nazione, che è una nazione borghese forte, in cui la borghesia non è in decadenza, vengono anche delle suggestioni nuove. Il borghese può essere un letterato e non è detto che il borghese debba rinnegare la sua appartenenza alla classe sociale, diciamo, dominante, per utilizzare una parola ideologizzata, per essere artista. Ok? Quindi interessante. In conclusione, come farei io un'analisi di questo testo? Direi che questo è un testo importante, perché è un testo, riprendendo le cose che ho detto io prima, che è un testo del 1903, che quindi dovrebbe appartiene alla letteratura decadente, è un testo sia simbolista, sia realista da un certo punto di vista, ma soprattutto è un testo che dà un'interpretazione nuova e coraggiosa del ruolo dell'artista che non ha paura della sua semplicità. Cioè è il rifiuto dell'artista maledetto, è il rifiuto dell'artista straordinario, dell'artista eccellente, del superuomo. Questo è l'artista delle piccole cose. In questo, se vi posso permettere, Thomas Mann è molto più simile a Palazzeschi di quanto non lo sia a Gabriele D'Annunzio. Ok? Ho finito. Smetto questa parte, chiudo qua.